Benvenuto, ciao Ho scoperto una persona più ipocondriaca di me, lui E appena ha saputo che sono malato si è allontanato di... Aspetti, vedi, ha voluto stare nello sgabello più lontano Posso alitare un po'? No, no, grazie Tu hai viaggiato molto, no? E continui a farlo. Sei mai stato in un albergo gestito da umanoidi? Non ancora, non ancora Impassibile, qualunque domanda non... Non ti è mai successo di trovare... Non mi è mai successo sono stato in alberghi meravigliosi, molto moderni Ma credo che sia ancora un po' precoce No, allora vuol dire che non sei stato in questo albergo giapponese Che è un po' l'oggetto della prossima parola, la parola robot Perché questa settimana abbiamo assistito a un fatto nuovo, Franco Il primo licenziamento di massa di robot Prima aveva avuto le assunzioni di massa di robot Adesso vediamo il licenziamento Cos'è successo? Che in un albergo avevano messo una quantità di robot a fare i servizi Ma si sono rivelati inaffidabili In particolare ha suscitato scandalo un certo ciuri Che disturbava i clienti che dormivano Nel senso che quando li sentiva russare Aveva un comando e diceva Non capisco, puoi ripetere Il poveraccio si svegliava, si rimetteva a russare E lui di nuovo non capisce Alla fine No ma la cosa è finita veramente La sentenza Licenziati per giusta causa Io vorrei sapere chi erano i proprietari Ma questo sarebbe oggetto di un altro Diciamo così, di un'altra parola Ecco ma io volevo chiederti Intanto cosa ne pensi di questa storia abbastanza Che sembra adatta alle tue corte Vuoi chiedere Grazie Ti ringrazio Ti ringrazio del fatto che tu pensi che i robot Siano adatti alle mie corde E non le emozioni e i buoni sentimenti No no Quindi direi che No i robot I call No no Ti devo dire l'albergo con i robot Io penso che l'intelligenza artificiale sia una cosa buona Penso che sia ancora precoce Avere dei robot che gestiscono un albergo È una cosa che potrà avvenire tra 20-40 anni E quindi sicuramente non è ancora arrivato il momento C'è una cosa molto importante di cui dobbiamo renderci conto Non dobbiamo alimentare la fobia verso il progresso e l'innovazione Questo è molto importante L'intelligenza artificiale non è HAL di 2001 di SEA nello spazio Non è il computer senziente cattivo che prende le decisioni al posto dell'uomo È solo l'automazione Cioè è un computer che raccoglie dati e agisce L'esempio più facile da dare sono le macchine del futuro che guideranno senza bisogno dell'uomo Lì però devi fare i conti con l'algoritmo L'algoritmo deciderà per conto tuo Un pedone attraversa la strada Se giro a sinistra vado a sbattere contro un albero Se giro a destra finisco in un burrone Se vado avanti prendo il pedone Allora il punto è Chi sceglie è l'algoritmo Non scegli tu Perché se l'algoritmo decide di colpire il pedone L'algoritmo deve difendere chi sta dentro la macchina E deve fare la scelta migliore Ma se il pedone è anziano Magari l'algoritmo può scegliere Tanto lui la sua vita l'ha vissuta Ma non è vero Magari c'ha in mano la tua cosa C'ha in mano il tuo metro Guarda che punto del metro L'algoritmo frena L'algoritmo frena Non bisogna alimentare la paura del futuro in Italia Che siamo già troppo passatisti Costantino Proprio per questa ragione Io adesso ti propongo un elenco di professioni Con cui abbiamo a che fare tutti i giorni E tu mi dirai Quale tu preferiresti Che venissero svolte fin da oggi O in futuro da un robot Cominciamo dal chirurgo Assolutamente sì Ti faresti operare Per la svolta dai robot Io preferirei farmi operare da un robot Il ruolo dei dottori fra 40 anni Sarà completamente diverso Ne sono certo Cioè in sala operatoria Non ci saranno più i dottori Non ci saranno più i dottori Magari ci sarà uno che governa Il dottore sarà una persona con cui parlerai delle tue malattie Sarà un po' uno psicanalista Ti aiuterà Il fornaio Anche i cuochi Saranno Saranno robot Cioè il pane fatto da un robot Sì Lo mangi Duretto No Sì No Va bene Senza lieve È poco lieve Sarà perfetto Sarà buono Sì L'insegnante Allora Grazie all'intelligenza artificiale Verranno raggiungere Verranno raggiunti ad esempio in Cina Scritto Kai Fu Li Questo imprenditore dell'intelligenza artificiale in Cina Molti paesi dove i ragazzini non hanno accesso all'educazione Quindi Dobbiamo solo ringraziare L'intelligenza artificiale Vorresti avere Vorresti essere in una scuola dove l'insegnante è un robot Eh Più che un robot Sì Sì Vorrei essere anche in una scuola dove l'insegnante è un robot Sì Questa è molto facile Giornalista Beh Direi Questa sì Questa proprio Io sono sicuro che sono tutti d'accordo Invece magari Pensa all'algoritmo Chiedi Franco Se ci cambiano noi l'algoritmo È divertimento Il Presidente della Repubblica O comunque insomma un'autorità istituzionale Un politico Con un ruolo Che ha in mano Cioè Te la butto ancora più in là Il Presidente degli Stati Uniti Adesso Pensando chi c'è adesso Ecco però dico Quello che ha in mano la valigetta Con i codici atomici Sì Anche quello in mano a un robot Pure il tuo Più decisioni tecniche E meno emozioni Io detesto quando i politici Che siano di destra o di sinistra Parlano alla pancia Parlano con le emozioni Mi piaceva Mario Monti Avremo un suo ministro fra poco In collegamento Senti nel tuo programma Tu suoni il citofono Disconosciuti E fai loro un quiz A domicilio Ecco se a risponderti al citofono Fosse un robot Quale domanda gli faresti Per smascherarlo? Ah Qui ci vorrebbe Una specie di test Di Turing Ah non lo so Questa è una domanda Molto difficile Forse se saprei rispondere A una domanda Così intelligente Sarei In finanza Qualche università Studiare E non qui Fare intrattenimento